E' incredibile e surreale quello che sta accadendo alla Camera. Nonostante non ci sia più un Presidente della Repubblica, non ci sia il Garanzia della Costituzione, noi stiamo continuando a votare le riforme costituzionali solo per un capriccio dei due nazareni. Mezzo Parlamento sta chiedendo alla Presidente Boldrini di sospendere la discussione delle riforme costituzionali in attesa di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Ma la maggioranza, dei pigiabottoni, sotto scacco, dei due nazareni, si rifiuta e la Presidente Boldrini, complice, avalla questo atteggiamento. E' assurdo, è indecente, è pazzesco, ma sta accadendo adesso alla Camera.